Buonasera a tutti voi da Rai Sport, in primo piano il calcio mercato che chiuderà i battenti domani, il nome di oggi è quello di Alcaraz, la trattativa che lo porterà alla Juventus dal Southampton. Per tutti i dettagli andiamo subito in diretta da Ciro Venerato. Buonasera Ciro, a te. Buonasera Monica, i dettagli di Alcaraz che stamattina ha sostenuto le visite emetiche a Londra e proprio per abbreviare i tempi del tesseramento, arriva in prestito con diritto di riscatto. Questa è la formula. Andiamo invece nei particolari, annunciando le cifre. 500 mila euro che la Juve verserà subito al Southampton e 500 mila euro di bonus facili, vi scatteranno che dopo due o tre presenze, ed una penale di un altro mezzo milione laddove il calciatore non dovesse disputare neppure un secondo di campionato in maglia bianconera. E poi un diritto di riscatto fissato intorno ai 45 milioni. La Juve stamattina ne chiedeva 35, ma è un diritto, quindi ogni cifra resta così molto labile in quanto di fatto secondo me è un vero e proprio prestito. Poi vedremo. Il calciatore è un centrocampista di 21 anni, è argentino ed è cresciuto nel Racing, la stessa squadra di Lautaro Martinez. E passiamo invece all'altro colpo della giornata. Belotti, Belotti che come avevamo già annunciato ieri, Monica, di fatto è un calciatore della Fiorentina, e già il Viola Parca, sostenuto le visite mediche, la Fiorentina verserà 750 mila euro per il prestito oneroso al club giallorosso. Club giallorosso però che si è assicurato mezz'ora fa, quindi possiamo darla ufficiale, valdanzi dall'Empoli. Abbiamo anche le cifre per un'operazione condotta magistralmente dal direttore sportivo empolese Pietro Accardi. Perché? Perché ha detto ai Fredkin, il calciatore va via solo al titolo definitivo, senza formule cervellotiche. Quindi va a titolo definitivo, 13 milioni più 2 di bonus per un totale di 15, e il 20% di un diritto di futuro di vendita di Baldanzi a favore dell'Empoli. L'Empoli che poi ha portato a casa Niang, ex Milan, ex Genova, che ha lasciato i turchi della Damir Sport e ha firmato un contratto con l'Empoli. Fiorentina che cerca anche un esterno. Offerti 20 milioni al Genova per Gudmusson, il Genova ne chiede 30, e Vargas al momento in stand-by. Sfuma Reina che ha firmato per il Nottingham. Rimani lì, facciamo un focus sul Napoli. Come è cambiata la squadra campana e cosa succederà dopo la cessione di Ozymen? Vediamo insieme il servizio che ha preparato Giacomo.